Ora buongiorno, io sono Federico Gauli, sono un tecnico di pasticceria, Puratos Italia. Nello specifico mi occupo di elaborazioni di nuovi prodotti, elaborazioni di nuove ricette, sia di pasticceria che di cioccolateria. Testi interni su nuovi prodotti da lanciare sul mercato, che sia artigiano, che sia anche a livello industriale. E cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, ecco, per organizzare e per riuscire a ottenere il massimo dai nostri prodotti. Ho avuto il piacere e l'onore di poter realizzare questo dessert al piatto per il pranzo in cui abbiamo ospitato l'ambasciatore del Belgio, qui in azienda, qui in Puratos. E semplicemente appunto mi sono voluto ispirare un attimo a uno dei prodotti simbolo della zona di Modena, Bologna, insomma di queste zone, di queste terre, e portarla nel dessert. Quindi io cosa ho realizzato? Ho realizzato un tortellino dolce, quindi praticamente e interamente realizzato di un cremoso al cioccolato al latte, Monorigine Camerun, il quale l'ho accompagnato sul fondo del piatto per un attimino ricordare il discorso del brodo con una salsa al mango e vaniglia e un attimino arricchita con una culi di frutti di bosco e una salsa leggera al bergamotto. Per dare un po' di effetto crunchy ho usato un crambo dalla mandorla, semplicemente questo. Semplicemente, raccontato semplicemente, poi molto apprezzato e un attimino anche un pochino più complesso. Ecco, però è stato divertente e è stato molto piacevole realizzare.